Artis lo trovi a Nocera Superiore in via della Libertà 6062 Si è tenuto ieri pomeriggio, come annunciato nei giorni scorsi, l'atteso incontro tra il sindaco di Vieti sul Mare Giovanni De Simone ed un gruppo di mamme della frazione di Dragonea per fornire ulteriori chiarimenti sullo stato di fatto dei lavori e sulle previsioni di riapertura del plesso scolastico della popolosa frazione, chiuso da ormai ben tre anni. Il sindaco, accompagnato dall'assessore ai lavori pubblici Angela Infante, dall'assessore alle politiche sociali Enzo Alfano e dal personale dell'ufficio tecnico comunale, dopo aver fatto una cronistoria della vicenda, iniziata con un finanziamento del MIUR del 2018, alla domanda delle mamme circa la tempistica per la riapertura, ha ribadito che per fine anno, massimo inizio 2023, la scuola dovrebbe riaprire i battenti. Preoccupazione e scetticismo è stata espressa dalle mamme, tenendo conto della mancata ripartenza dei lavori a causa delle condizioni del tetto che hanno reso necessario un ulteriore impiego di somme da stanziare per provvedere alla messa in sicurezza. Le mamme hanno ribadito il disagio delle trasferte dei loro bambini al plesso di Raito ed hanno avanzato la richiesta di trasferire i bambini presso il plesso di Benincasa. A questa richiesta il sindaco ha riferito che avrebbe valutato questa possibilità interagendo direttamente con la dirigente scolastica. Al termine dell'incontro le mamme si sono riservate di interpellare nuovamente il sindaco fra tre mesi per verificare lo stato effettivo dell'avanzamento dei lavori.